Novità dal Consiglio federale di ieri che ha deciso a proposito del campionato di Serie D 2015-2016 l'esclusione di ben 12 società e il ripescaggio di nuove squadre. Andiamo più nel dettaglio. Fuori il Savoia per non aver presentato la domanda di iscrizione al campionato, il Neapolis per rinuncia a partecipare, la Civitanovese, squadra facente parte del girone delle Molisane fino all'anno scorso per fallimento societario. Termoli, Interregio, Gioiese, Sora e Battipaiese per mancata opposizione alla decisione avversa della Covisod. Sono state ripescate le seguenti squadre. Liventina, Gorgense, Luparenze, San Paolo, Monticelli, Agnonese, Borgo Ammazzano, Dertona, Città di Scordia, Folgore, Caratese e Castiadas. A questo punto il girone scorso Abruzzo, Molise e Marche perde un pezzo, cioè la Civitanovese che stava conducendo una campagna acquisti in grande stile con gli acquisti di Borghetti, Ambrosini e Tozzi Borsoi che a questo punto rimangono a spasso, ma crediamo ancora per poco, considerata la qualità dei suddetti giocatori. Stanti le retrocessioni avvenute lo scorso mese di maggio di Agnone, Pesaro, Celano e Castelfidardo, ma tenuto altresì in debita considerazione il ripescaggio dell'Olimpia agnonese, ma anche l'esclusione già detta del Termoli, se ne evince che nel girone F, ai fini della sua stessa composizione, sono mancanti tre posti che verranno presi dalle squadre vincenti rispettivamente l'eccellenza abruzzese, cioè l'Avezzano, e l'eccellenza marchigiana, cioè il Monte Granaro, la cui società si è fusa addirittura con il Veregra, società di terza categoria marchigiana, dando vita al folgore Veregra. Poi c'è ovviamente l'Isernia che prende il posto a questo punto del Termoli, che non farà per motivi che già sappiamo la prossima quarta serie. I nostri conti non terminano qui, il posto della Civitanovese è stato già preso dal ripescaggio del Monticelli-Ascoli, squadra proprio di Ascoli-Piceno, dunque se anche in federazione la dovessero pensare, così non cambierebbe la geografia delle molisane della Serie D, ma soltanto qualche destinazione che tuttavia non inciderebbe più di tanto sulla qualità del raggruppamento. Si sospettano tempi lunghi per la composizione dei gironi, si paventa che ci sia l'intenzione nei piani alti di aspettare l'esito del processo al Catania-Calcio che inizierà il prossimo 11 di agosto. A seguire ci saranno i calendari, per ora le uniche date certe della Serie D riguardano l'inizio della Coppa Italia, fissato per il 23 agosto, sempre secondo la formula dei triangolari. Il Campobasso già sa di riposare proprio il 23 agosto, in attesa di scontrarsi contro la vincente presumibilmente di un derby tutto molisano tra i Serni e Ad e Dagnone la settimana seguente, ma anche qui ci vuole ancora la conferma.